Esiste una linea incredibilmente sottile tra la ragione e la pazienza. E' endemica di tutte le culture. Il professor Mackles. Posso aiutarla? Lo spero. Ha mai sentito il termine muti, detective? No. Esuru significa medicina, ma ha anche un significato più oscuro. Mi chiamo Telly. Mi piacciono i tuoi occhi. Uomini d'affari, politici, le persone che pagano per il muti sono alla ricerca di successo personale. Non mi serve il suo aiuto. È lei che ha bisogno di me. Ma ferma, chiesto più! Il sangoma preleva gli organi che gli interessano, mentre la vittima è ancora viva. Più intensi sono le urla, più grande è il potere del muti.